what's up sono scipio benvenuti in questo video in cui oi ma che stai passando c'ero dopo un botto di archi in cui gli sviluppatori si sono dimostrati essere persone intelligenti diciamo detto no in termini cattivissimi mettendo missioni facili nel senso tu vai qui vai lì vai lì ma niente di preoccupante beh oggi è dalle 6 e un quarto più o meno sono le 8 meno un quarto e sono un'ora e mezza che sto girando la galassia ancora devo finire missioni e siccome adesso mi è arrivata una cosa interessante x torna alla stazione per riparazioni e io non ci voglio tornare alla stazione per riparazioni allora c'è questo tizio qua che sta girando e io lo attacco tanto muoio che me ne frega faccio finta che tanto ruo mi mando il messaggio errore vedete che non è un errore bellissima visto così si fanno le missioni vero è diciamo io aspetta prima di continuare a parlare io la devo mandare subito stanno durando talmente tanto queste missioni che il cane è salito sul tavolo e mi stai dicendo oi compagno ma ti vuoi dare una mossa e mi fai a mangiare no oppure mi dai attenzione mi fai giocare un pochettino bello come si buffo e poi ovviamente c'è stato il panico se riesco sì 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 ho speso un sacco c'è stato il panico per questo evento dov'è questo qua sconfiggi le sonde bolle nuove sonde bolle 36 l'unico modo per farlo in maniera un pochettino più tranquilla è con la nuova nave e tutti quanti colpeci il panico e me quando li devo ammazzare quando li devo ammazzare quando li devo ammazzare diciamo fortunatamente dovevo ammazzare le sonde bolle e l'ho finito quindi diciamo la prima paura è questa la poi quando mi sono proprio mi sono cadute per terra per terra questo evento qua cioè a parte questo ma secondo me hanno cambiato il team di sviluppo dopo google dopo microsoft e dopo apple che hanno licenziato un programmatore a destra e a sinistra ma pure scopoli sta rinnovando il suo parco di ingegneri e questo evento si finiva si finisce premendo 50 volte il tasto per far uscire le frequenze di chiamata ma il problema sarà a finire questo perché io pensavo avessero capito come funziona l'avvento pvp metti il pvp in maniera divisa in livello vai a varie mappe lo fai e sei tranquillo invece noi adesso questi qua sono tutti sono tutti qua e vediamo se riesco a mettermi d'accordo qualcuno perché sono 100 punti diviso 4 25 attacco attacchi che devo subire per finire questo evento e capite 25 diviso 4 sono 6 diciamo sono 6 turni di invio per poter finire questo evento già io mi metto le mani nei capelli se non riesco a trovare qualcuno che mi riesce a dare una mano a finire questo evento cioè io do una mano a lui lui da una mano a me e ce lo finiamo eh no diciamo siamo ritornati indietro di due anni tre anni più o meno intanto è intanto è arrivato qua eh lo so sì sì aspetta vediamo vediamo subito sì 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 allora questo è convinto ecco poi dopo siccome non è ancora più pesante rispetto al solito le missioni dicono eh ammazza 10 ostili di queste in questa mappa 10 questo è già tipo la quarta volta che sono ammazzando 10 ostili oltre ovviamente gli ostili per la fine della missione con con su 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 chi su corta gamma ma io questo qua gli devo dire io mi sono migliorato un po' in inglese ecco è stato quindi it e mi sta che si 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 sta che è una menzogna sto mentendo sto mentendo debì deliberatamente perché vi faccio vedere e chiudiamo perché sono le 8 meno 10 e devo andare a quattro eccolo qua questo qua tre milioni di tritania bisogna minare ok google 3 milioni diviso 50 mila la risposta è 60 non so se avete non so perché non parlare pure in inglese pure lui 60 60 ore se io in un'ora estraggo cinquantamila unità di tritania 60 ore sono 60 ore sono sono due siamo tre giorni due giorni e mezzo tre giorni una cosa del genere ma se io mi la vendiamo su 24 se tipo mi diciamo 12 ore sono sei giorni sei sei giorni per finire la missione si cane muove aspetta sto così me ne sto andando me ne sto andando sto chiudendo fammi fammi finire di rispondere questo qua no e ti voglio tecnicamente sì è stato un errore ma un errore intenzionale perché imparerai mi imparerete i miei giovani padawan che noi gedi diciamo la verità da un certo punto di vista il nostro e infatti ecco perché il vecchio ben ha fregato la grande di skywalker perché diciamo ha detto la verità sul padre che tecnicamente il padre è stato ucciso da darth vader però non ha detto la verità bella 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 perché ci mi hanno sbattuto fuori dalla stanza che stavo dicendo perché stavo dicendo mi sono pure scordato siamo sì l'ha fregato la grande perché tipo dart vader ammazzato luke se vuole ammazzato anni che skywalker ma tecnicamente dart vader e anakin sono la stessa persona quindi quindi mi è iniziata una cosa così veloce per farvi diciamo per trasmettere trasmettervi il mio disagio il disagio di tutta la community mo quando cominceranno a fare le emissioni si accorgeranno che non veramente non bastano due ore per finirle quindi pregando i 420 affinché io posso trovare una persona di buona volontà che mi aiuti a finire l'evento pvp in quattro mosse e augurandomi che diciamo la community gli dice 4 1 2 i 4 20 1 2 3 4 così tanto per un attimo dare un di discossa discord e sviare i problemi che ci sono finito aspetta un attimo vediamo vediamo se io ho ammazzato questo probabilmente uscirà la nave da queste parti eccolo qua e niente devo andare a cucinare mi fa fame sto sto morendo dalla fame quindi un saluto da scipio e concludiamo il video con come si guardate quanta gente cattiva c'è in questa in questo sistema qui questo che è cattivissimo e cattivissimo e cattivissimo fatemi finire forse l'ho finito l'evento però continuano ad attaccare che me ne frega spacco tutti spacco tutti con la mia ricordo come si chiama questa nave qua e faccio anche punti per per l'evento alleanza come fa un ammazzare questo io mo a questi vengono da sotto e allora ammazzare ti posso dire mamme ah sì sì chi è questo è bello è bello è bello e no lo vediamo se riesco a beccarne una poi basta perché non devo andare a cucinare dai dai no venga da là no venga da là no ti prego ti prego dai no perché sei bloccato perché sei bloccato non lo so è lo spacco dai vieni scendi muori è morto si è morto peccato che non ci aveva dai 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 mi ha attaccato la mia attaccata ti ho visto io ti ho visto ti ho visto che sei stato ccp è finita la mia è finita la mia avventura nel pvp ho finito l'evento pvp quindi vediamo questo qua 200 ok e sono entrato in classifica pure qua giusto 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 non è sbagliato secondo questo è difficile è difficile entrare in questo evento quindi quindi poi vediamo quante ho finito finalmente ho finito anche le missioni quindi ok posso andare a mangiare in pace posso a riempire il mio pancino vuoto e a finire quella missione che va finita entro entro 19 giorni e 21 ore per prendere 400 ma stiamo scherzando mamma mia quanto devo minare adesso per prendere questi 400 e questo e questo avatar inutile mamma mia mi interessa di vado a mangiare quindi un saluto da Scipio e alla prossima stavolta me ne vado per sempre stavolta